Bentrovati, bentrovati ad una nuova serie di video tutorial firmata a FabioAmbrosi.it Con questa serie di video cercheremo di imparare come si utilizza Microsoft Flight Simulator il famoso simulatore di volo firmato Microsoft Nel 2020 il gioco è stato completamente ripensato e ridisegnato da Microsoft insieme ad Assobo sono state introdotte le mappe Bing e tante altre tecnologie che hanno portato la simulazione a livelli pazzeschi Prima di iniziare però una premessa che è importante noi vedremo come funziona Microsoft Flight Simulator da un punto di vista tecnico quindi come si scelgono le varie opzioni, come si sceglie un aeroporto di partenza, di arrivo, un aereo come si accede ai tutorial per esempio che sono compresi all'interno del gioco e come si configura soprattutto il joystick perché chiaramente questa è la prima cosa che dobbiamo imparare se vogliamo utilizzare Microsoft Flight Simulator al meglio e simulare come si utilizza un aereo reale perché è quello che andremo poi a fare dovete assolutamente procurarvi un joystick non serve che voi spendiate troppi soldi basta un joystick di base da 20-30 euro una cloche che vi permetta di simulare un minimo quello che accade all'interno di una cabina di pilotaggio poi se diventerete particolarmente bravi e vi piace veramente tanto il volo simulato sicuramente potrete utilizzare dei joystick molto più complessi e costosi o addirittura delle piccole riproduzioni di cabine di pilotaggio ma è un argomento avanzato per chi già è in là con l'esperienza e con il gioco noi ci occuperemo in questa serie di come si scelgono le impostazioni della grafica di come si configurano appunto i joystick che andremo ad utilizzare andremo a vedere come si sceglie un aeroporto per esempio questo è l'aeroporto di Fiumicino noi vedremo come si fa a scegliere un punto di partenza quindi un parcheggio per il nostro aereo vedremo come si sceglie e come si configura il meteo perché noi chiaramente potremmo utilizzare il meteo reale per giocare quindi quello che è realmente il meteo al momento presente sul nostro tragitto potremmo anche andare a personalizzare il nostro meteo per esempio scegliendo di avere una perturbazione quindi complicarci la vita vedremo come si sceglie un aereo ce ne sono già tanti compresi con il vostro gioco ed esistono tanti aerei gratuiti e a pagamento che è possibile o acquistare o scaricare e installare direttamente vedremo un po' queste cose vedremo anche come si accede e come si utilizzano i tutorial perché chiaramente come vi dicevo prima volare significa conoscere bene le regole del volo e se non si ha assolutamente esperienza con il volo all'inizio giocare con fly simulator può essere frustrante perché magari si ok sono riuscito ad entrare all'interno di una cabina di pilotaggio ok in qualche modo sono riuscito ad accendere l'aereo adesso come faccio a volare bene in maniera realistica ecco ci sono delle regole da seguire noi non ci occuperemo nel dettaglio di queste regole con questa serie di video però vedremo come Microsoft ci mette a disposizione tutta una serie di tutorial di base per capire almeno come funziona un aereo ecco e avere un minimo di esperienza vedremo infine anche chiaramente come si utilizza e come si accede al negozio perché come vi dicevo tante cose sono già comprese all'interno del gioco quando lo scaricate e lo installate ma tante cose possono essere acquistate tanti aeroporti possono essere acquistati più realistici di quelli comunque già realistici presenti all'interno del gioco quindi mi fermo vi do appuntamento al prossimo tutorial dove inizieremo a vedere le opzioni il punto di partenza assoluto quando volete muovere i primi passi con Microsoft Fly Simulator grazie se vi va registratevi a questo canale YouTube il vostro click la vostra registrazione è un modo molto carino per sostenere questo progetto al prossimo tutorial ciao